Proseguono gli incontri presso l'Istituto Mattarella Dolce di Castellammare del Golfo, inerenti le manifestazioni per il quarantesimo anniversario dell'uccisione dell'ex Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Oggi a parlare agli studenti è stato chiamato il Professore di Diritto Amministrativo Guido Corso, in passato collaboratore dello stesso Piersanti Mattarella, nonché amico e collega ai tempi della docenza universitaria dell'attuale Presidente della Repubblica Italiana. A voi i dettagli. La grandezza di quest'uomo si è distinto nei poco più di dieci anni della sua attività sia come stile di azione, sia come pensiero dalla generalità dei politici del suo tempo. Direi dalla generalità dei politici di ogni tempo. Perché è stata una persona che ha fatto politica credendo nella politica, credendo nella funzione della politica, credendo che la politica fosse uno strumento per il raggiungimento del bene comune. E tutta la sua attività, prima come consigliere comunale, poi come deputato regionale, poi come assessore regionale, e poi come Presidente della Regione, è stata orientata da questo obiettivo. Fondamentalmente la serietà con cui ha svolto il suo compito. Cioè, serietà che è legata anche al fatto che credeva profondamente nella funzione della politica. Cioè dire, lui, come direbbe Max Weber, ha considerato la politica come un compito, non semplicemente come un mestiere, o uno strumento per attivare consensi, o un modo per guadagnarsi a vivere. Ha creduto nella politica come una funzione rivolta per gli altri. Ho conosciuto il vecchio e grande Bernardo. Ho frequentato, anche collaborando con lui, Pier Santi. Ma devo dire che l'amicizia più stretta è stata quella con Sergio, l'attuale Presidente della Repubblica, al quale mi ha legato anche un rapporto di colleganza professionale. Perché entrambi siamo stati assistenti del professore Pietro Birga. E quindi, lui era appena laureato all'Università di Roma, io ho laureato all'Università di Palermo e ci siamo incrociati.